Siamo arrivati al club finale, dove veramente Rossi Alberto è un una firma. Queste meravigliose bistecche che naturalmente l'acquolina in bocca la fanno vedere anche senza essere cotte. La bistecca si sa che quando si parla di vitella è una bella bistecca, io sono dell'opinione che è anche un bel bollito, uno spezzatino, un osso buco, perché poi la nostra educazione alimentare ci deve insegnare che l'animale va consumato tutto per avere la qualità, certamente che la bistecca è sempre la regina del piatto. Io ho voluto presentare oggi qui tre prodotti di forse un paio di meno bell'aspetto, perché sono piuttosto avanti di frollatura, sono pronte da tagliare, quindi la carne molto frollata ha un aspetto un pochino forse più brutto da vedere, va sistemata quando si taglia, però ho voluto presentare tre carni diverse, con tre frollature diverse. Qui abbiamo una costata di toro piemontese, che sarebbe il macio della fassona praticamente. Si sceglie prodotti piuttosto grassi perché sono più teneri e perché tengono di più la frollatura. Questo è un taglio di una carne che ha già 60 giorni e quindi è pronta, anche l'altezza come vedete è giusta per fare una tagliata perché si cuoce quei 5 minuti per parte e poi si cuoce 5 minuti in piedi e è pronto per fare una bella tagliata. Quella che abbiamo in mezzo è una limousine, chiaramente come dicevamo non è la macchina ma è la razza dell'animale e una carne comunque che viene da qui, addirittura da un allevamento di Montalcino che nascono lì e mi servo da loro, hanno le fattrici, quindi una carne allevata con foraggi tenute in una bella stadua d'aria aperta, quindi carne buonissima, che chiaramente non ha bisogno di una frollatura come questa, come addirittura la chiarina, ma i suoi 25-30 giorni di frollatura normale di frigo vanno bene. Oggi si frolla nei dry ager, quindi scelle apposite che mantengono sempre una temperatura, una umidità della carne, quindi il pH sempre regolare, il sale che comunque le conserva e chiaramente dentro queste scelle si crea un ambiente asettico dove la carne può stare a frollare anche per vari mesi ma non si deteriora e non si rovina. Una cosa importante, che almeno così chi si intende di carne giudica fondamentale, queste bestie che tipo di anni devono avere? Devono essere molto giovani? Sì, è una bella domanda perché si spazia come nella frollatura, si spazia a seconda della razza dell'animale, del sesso, della quantità di grasso, dell'età sulla frollatura che poi la frollatura è un processo naturale che avviene durante i giorni di frollatura, il connettivo del muscolo si rilassa, arriva al punto che la carne diventa tenera e comunque mantiene il suo sapore. L'età di una carne, se noi mettiamo una fassona, per essere una fassona a tutti gli effetti deve essere sopra 30 mesi, noi non lavoriamo fassona di quel peso e vi spiego perché, perché la fassona è una carne che tende a diventare scura, un po' come tutte le carni di età e quindi da noi non incontra molto, si lavora una fassona leggermente più giovane che la carne più chiara, è comunque un buon sapore e va bene lo stesso, ma quel tipo di carne dovrebbe avere almeno 33, 34, 36 mesi. La chianina, la chianina che lavoriamo noi in macelleria in generale è una femmina, nel 99,9% dei casi è una femmina e oscilla dai 17 ai 20 mesi, 17, 18, 19. La femmina perché? Perché tende ad essere un pochino più grassa e quindi è una carne che è ancora più sapore da chianina, ce l'ha di per sé l'amarezzatura grassa, ma la femmina tende ad averne un po' di più, quindi ha più tenerezza e più sapore, ma per raggiungere la tenerezza di una chianina che comunque non è vecchia perché è un animale che ha 16-17 mesi, necessita almeno di 40 giorni di frigorifero, allora si tiene un prodotto eccezionale e noi abbiamo voluto esagerare oggi, presentare il tomowoc di chianina, perché il tomowoc generalmente si fa in tagli meno nobili, in tagli meno pregiati, perché si fa una limusine, noi l'abbiamo voluto fare una chianina, il tomowoc che tutti conoscono, che non è una razza animale, molti pensano che sia una razza, ho mangiato il tomowoc, sì, ma lo puoi mangiare di chianina, di limusine, di fassona o di tanti tipi di cani, è un taglio che avviene togliendo la pancia, lasciando la costola e poi si taglia la bistecca, è bellissima perché è un po' texana, si gira nella griglia dall'osso senza bruciarsi e quindi è anche una comunità percoce, è di bell'aspetto quando la presentiamo perché comunque sia, è scenografica, quindi ripeto, l'età varia in funzione un po' della razza animale, ma generalmente il top delle nostre razze, di quelle che lavoriamo è dai 15 ai 18 mesi, quella è il range migliore. Allora, parliamo di quello che è, per concludere, di quello che è più tradizionale, la bistecca in realtà, come è la tradizione toscana, quanto dovrebbe essere alta in modo tale che si possa anche cuocere, perché molte volte rimane, l'interno rimane… Allora, prima cosa c'è una brace di legna buona, quindi una brace di quercia, una buona brace perché deve essere una brace viva, accesa, bella e il taglio varia a secondo anche il gusto che abbiamo, perché c'è chi vuole la carne molto cotta, chi la vuole molto cruda e quindi la cottura varia anche da quello. Chiaramente una buona cottura di una bistecca come questa in una buona brace ha i suoi 5 minuti per parte e 5 minuti in piedi perché non rimanga fredda dentro. In più, noi cosa si consiglia? Quando cuoci la bistecca stasera, oggi toglila dal frigo, perché se noi togliamo una bistecca alta 4 diti per fare una tagliata e la mettiamo a cuocere appena tolta dal frigo, dentro rimane fredda, va cotta che si ha temperatura ambiente. E poi vi spiego una cosa che non sentite dire tante, perché la tagliata, la fiorentina deve essere 1,2 kg, ma se io taglio una bistecca di un vitello che è 500 kg e la faccio 3 diti, è 2,5 kg. Se taglio una bistecca di un vitello che è 260 kg e la faccio 3 diti, è 900 grammi. Quindi il peso della bistecca varia a secondo del peso della grandezza dell'animale. La fiorentina classica è un taglio che ha una sua identità e una sua caratteristica e ve la faccio vedere. Ogni colonna vertebrale ha un anello, come abbiamo noi, c'è anche l'animale. Ogni anello vertebrale è un taglio di una fiorentina, quindi il taglio della fiorentina non lo stabilisce l'essere umano, lo stabilisce l'animale, perché qui vediamo che noi abbiamo qui le congiunture degli anelli della spina dorsale. Ogni anello, ecco, qui ci sono una congiuntura, qui ce n'è un'altra. Questa è una fiorentina, che può essere, in questo caso viene fuori da 1,2 kg a 1,3 kg, perché è un animale che ha circa 17 mesi, è un animale che ha 320 kg, ma se io la faccio in un vitellone di 460 kg, il solito taglio, il solito anello della spina dorsale viene fuori una bistecca di 1,7 kg, 1,8 kg, 2 kg. Se la faccio in un animale di 260 kg, la stessa bistecca mi viene 900 grammi, quindi il peso varia nella grandezza dell'animale, il taglio è sempre quello, ogni anello della spina dorsale è una fiorentina. Ma poi gli spieghiamo noi come fare, quanto tempo ci vuole, secondo il taglio, secondo quelli che sono i canoni di cottura principali. Comunque è stato un viaggio di una squisitezza assoluta e soprattutto ti ringraziamo perché uno come me ci ha capito qualcosa di più di quello che lo sapeva prima. Ognuno ha il suo mestiere, no? Il suo mestiere è un momento. Grazie a tutti